Eccoci a poter dare le notizie sull'attività dell'amministrazione. Siamo qua davanti alla Magnolia Fiorita, nel giardino del municipio, proprio per significare come in questo periodo stiamo dando grande attenzione al verde. Abbiamo quasi ultimato, stanno quasi ultimando i lavori di Piazza Roma. Siamo convinti che verrà data da un punto di vista estetico sicuramente una vera occasione per dare sempre di più lustro alla nostra città per chi arriva alla stazione ma per chi frequenta la città e inizia il Viale Garibaldi. Abbiamo visto come tutta una serie di iniziative, di fiori e potature e stiamo cercando davvero di riprendere con l'arrivo della primavera. Dobbiamo anche vedere in queste giornate, ho particolarmente insistito per la pulizia delle strade, dei marciapiedi, in questa giornata di oggi la Piazza dei Pesci e tutte le zone del centro. Passeremo anche alla periferia, proprio non solo l'attenzione, maggiore attenzione al servizio della raccolta, ma anche davvero alla pulizia dei marciapiedi, alla pulizia delle strade. Ci deve aiutare, i cittadini ci devono aiutare. Dobbiamo essere tutti molto più attenti, dobbiamo essere tutti molto più rigorosi anche con noi stessi perché vogliamo la città più bella, vogliamo una città più gradevole. Quindi davvero partono delle altre iniziative, ci stiamo adoperando per implementare le aree verdi, stiamo facendo i lavori per degli ulteriori sgambatoi, per gli animali d'affezione. Quindi le attività dell'amministrazione in questo senso sono molteplici. Questa attenzione all'ambiente che sicuramente vogliamo dare con particolare significato in questo periodo che ci ha visto in difficoltà, nel periodo della chiusura, nel periodo in cui non si può godere apertamente della nostra abitudine di vivere la città. Abbiamo ieri concluso la conferenza dei servizi per gli impianti presso l'area industriale e abbiamo visto come questa battaglia a tutela dell'ambiente, a tutela della città è stata considerevole ed è finita nel senso che davvero è stata applicata a questa particolare attenzione e quindi non ci sarà questa possibilità di incrementare situazioni che ci possano essere di difficoltà per la città. Abbiamo una serie di iniziative che riguardano l'illuminazione dei nostri monumenti da Sant'Andrea alla Basilica alla Manica delle Donne. Abbiamo illuminato la Targa di Dante che ricorda come il sonetto che parla di Vercelli nella Divina Commedia in questo periodo in cui si va a commemorare Dante credo che poter significare ed evidenziare come Vercelli sia tra le città indicate e prese in considerazione da Dante nella Divina Commedia. Quindi la targa che c'è davanti alla stazione ferroviaria davanti a Sant'Andrea verrà illuminata. Quindi tante piccole attenzioni ma anche tante azioni importanti ai fini di vedere progressivamente sempre crescere la nostra città sia sotto un profilo dello sviluppo ma anche sotto un profilo dell'estetica, del decoro e dell'arredo urbano.